Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Tiloma, cause e sintomi. Il tiloma è un ispessimento circoscritto della pelle, ipercheratosi, che può essere relativamente esteso o molto circoscritto, approssimativamente delle dimensioni di una lenticchia. Questa lesione coinvolge, generalmente, superfici piccole, ma tende ad estendersi in profondità, comprimendo il connettivo del derma e atrofizzando il tessuto elastico. A differenza delle comuni callosità, il tiloma provoca dolore spontaneo alla pressione. Talvolta, nell'ipercheratosi profonda può verificarsi un intrappolamento di terminazioni nervose e barra o vascolari dermiche. Il tiloma è un'alterazione a carattere reattivo, ossia rappresenta una risposta al perpetuarsi di insulti locali. Al pari delle vesciche o dei calli, infatti, queste lesioni si formano per traumi meccanici, come pressioni, sfragamenti o attriti ripetuti. Nella maggior parte dei casi, i tilomi compaiono a livello dei piedi, in corrispondenza della superficie plantare, delle articolazioni interfalangee delle ditao di prominenze ossee, esempio calcagno, teste metatarsali ecc. Un tiloma può insorgere come reazione all'eccessiva costrizione di calzature poco confortevoli ed attività sportive, specie se svolte su terreni accidentati, esempio corsa o passeggiate. Queste lesioni possono derivare, inoltre, da un difetto di postura o da un modo non corretto di camminare. Possibili cause di tiloma. Tiloma è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Occhio di pernice. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte. MyPersonalTrainer.it